La Piaggio era una grande famiglia dove su 1200 dipendenti, arrivati anche a 2000 dipendenti, più della metà erano di finale o dei dintorni. Molti usciti dalla piaggia andavano a fare i camerieri nei periodi estivi, molti avevano la campagna e quindi uscivano dalla piaggia e facevano i contadini. Qualcuno diceva anche che in piaggio si lavora poco, che non si lavora bene. In realtà era un po' una storia, la piaggio manteneva la gente a lavorare, molte volte qualcuno ha parlato di calciatori che venivano assunti in piaggio per avere uno stipendio fisso. Qualcuno in piaggio si faceva qualche lavoretto per conto suo, qualcuno faceva dei lavori esterni comandati magari dai superiori, però è sempre stato un accordo da il dottor Piaggio, allora padrone, proprietario più che padrone perché all'ultimo degli operai. Ci si conosceva quasi tutti e c'era sempre un rapporto onesto tra i vari collaboratori. Per quanto riguarda Finale penso che sia una grande perdita perché manca quell'aiuto che in passato c'era per le famiglie. La piaggio assorbiva molti dei ragazzi che studiavano alle scuole industriali, molti che studiavano, che facevano ragioneria o che facevano, dava un punto di arrivo, dava un'idea. Poi magari altri dopo l'esperienza in piaggio di qualche anno decidevano di andare, io dico in giro per il mondo, magari Genova, Milano, dove trovavano degli stipendi migliori, dove riuscivano a farsi una famiglia, dove avevano altri sbocchi, riuscivano a fare quello che volevano fare, quindi davano una scelta. Oggi una di quelle possibilità si è persa, cioè non c'è la possibilità di scegliere. E speravo in una ripresa della piaggio, una ripresa che per me c'è stata, per molti c'è stata. Magari il dottor Piaggio ci ha messo tanti soldi, però anche il dottor Piaggio sapeva e ha sempre detto io mi chiamo Piaggio, faccio gli aeroplani, so che mi costano, ma mi piace mandare in giro per il mondo aeroplani che si chiamano Piaggio. Noi abbiamo sempre saputo che i velivoli sono sempre stati un costo, i motori molte volte erano un guadagno. Si è detto che la Piaggio per un certo periodo lavorava solo nel settore aeronautico militare, perché era un po' un ambiente protetto, cioè i costi erano elevati, la specializzazione era elevata, gli stessi militari imponevano un sistema di produzione e di controllo che era in contrasto con quello che poteva essere una produzione di grande scala, una produzione di tipo civile. E' stato ascoltato, ma il suo consiglio non è stato messo in esecuzione. Il 180 è cresciuto, è nato, è cresciuto, lì eravamo ancora solo sulla carta, come un aeroplano particolare. Ha avuto un grande successo, in America aveva un concorrente, lo Starship. Era un aeroplano di produzione americana, di progettazione americana, fatto dalla beach, era tutto in composito, era eccezionale. Era un canard puro, cioè una grossa ala posteriore e il baffo, quello che noi chiamiamo il baffo, all'anteriore che serviva per il controllo dell'aeroplano. Ne hanno prodotti il 60 e poi hanno smesso la produzione. Il 180 ne aveva prodotti meno, ma è andato avanti. Ha resistito e ha superato lo Starship. I certificatori americani, chi avevano certificato lo Starship, aeroplano bellissimo, quando sono venuti in Italia e hanno volato sul 180 per fare i voli di certificazione del 180, hanno detto che questo aeroplano è molto meglio dello Starship. Già allora abbiamo fatto quasi 2.000 ore di volo con i prototipi per arrivare alla certificazione. Gli americani dopo 400 ore certificavano gli aeroplani e li mettevano in produzione. Da noi, il direttore tecnico, il direttore del settore aerodinamico, hanno sempre voluto cercare la perfezione. Spendevano soldi. Qualche volta hanno detto, ma intanto non sono soldi nostri, erano soldi del principale. Però hanno sempre avuto l'ok e hanno ottenuto un ottimo risultato. 180 volo ancora adesso e qualcuno ce lo invidia. Grazie.